Buonasera a tutti, noi siamo la Court Train Jazz Band e questa sera vi allideremo con un po' di musica di altri tempi, swing, jazz, un po' di funk, avremo anche qualche pezzo Latin e un ospite veramente molto importante, Rossana Camera che è lì, ma ci raggiungerà sul farco ben presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.